Allora potremmo partire da tanti di quelle massime ma forse la più importante non possiamo dimenticarla. Il sogno è diventato realtà, era il 12 aprile in quella di potenza praticamente. In Latina sanceva la promozione nella massima serie, sempre capitanata da Luca Giampaolo ma da un grande che ha creduto dalla prima volta che ha preso in mano questa squadra, Gianluca Lastarza. Sì, io lo dico sempre, forse apparirò presuntuoso, però quando abbiamo raggiunto la 2 è stato bello, bellissimo. Però il sogno era questo e ci abbiamo creduto anche se sapevamo che ci avremmo messo forse più tempo, è arrivata forse prima di quello che ci aspettavamo. Però sapevo che lavorando bene si poteva arrivare a questo risultato. Il sogno è diventato realtà con l'accento sull'A, con quella 1 che poi mi è venuta in mente una notte prima di andare a dormire. Abbiamo voluto proprio scriverlo su una maglietta commemorativa. Ecco, si è parlato tanto in conferenza stampa che la Rapido Latina è molto vicino, molto sensibile all'indirizzo di tante associazioni. Addirittura quest'anno si è voluta unire, accanto ad già presente Emergency e quant'altro, la stessa con Sandri, quella di Eberardi proprio per sensibilizzare proprio a questo punto l'opinione e amministrazione e quant'altro proprio alla liberazione di un personaggio molto importante per la provincia e la città di Latina. Sì, questa è veramente una vicenda che grida vendetta. C'è un nostro concittadino che è andato a svolgere il proprio lavoro come fanno in tanti all'estero, con l'unica colpa di averlo fatto in un paese dove i diritti civili purtroppo non esistono. E quindi è stato carcerato ingiustamente e noi nel nostro piccolo abbiamo voluto sposare questa causa, l'abbiamo fatto dedicando uno spazio della maglia che normalmente deputiamo agli sponsor, quindi rinunciando anche ad un introito economico, però siamo stati felici di farlo e speriamo adesso, questo è un inizio, dovremmo fare diverse iniziative per far sì che Roberto torni a casa. Noi vogliamo veramente sperare che la situazione sua attuale, che è una situazione veramente difficilissima, perché lotta tra la vita e la morte, perché si ammala continuamente di malaria, gli vengono fatti mancare quelli che sono il sustentamento essenziale dal cibo all'acqua, quindi oggi Roberto veramente sta lottando proprio grazie a una forza di volontà incredibile per poter finire di scontare una pena che veramente ha dell'incredibile. Ecco, Presidente, a questo punto andiamo un po' a parlare della squadra. La squadra è pronta, ci sono grandi personaggi per gli addetti al lavoro, sono ormai personaggi giocatori molto importanti come il ritorno di Lara, Menini, lo stesso, però ce n'è uno che veramente l'abbiamo definita la ciliegina che proprio il Presidente poteva regalare a questo Latina, quel Vinicius Bacaro che sappiamo noi lo conosciamo bene, ma vorremmo che anche Latina lo conoscesse meglio. Ebbè, Vinicius l'hai detto tu, è un calciatore di calcio a 5 che ha scritto la storia del futsal, vincendo tutto quello che c'era da vincere. Io credo che insieme a Carlo Sanchez, che portammo il primo anno, rappresenta forse dal punto di vista mediatico un calciatore incredibile. Questo deve far sì se ancora qualcuno avesse qualche dubbio a venirci a vedere, che non può perdere lo spettacolo offerto da questa squadra e da questi interpreti. Per Gianpaolo, prossimi con questa avventura, una novità per Latina? Sì, sì, lo sapevamo lo scorso anno vincendo il campionato che avremmo raggiunto un traguardo storico e portare questa bellissima città in Serie A1 crea intorno a noi grosse aspettative, grosso fascino. Ecco, mister, si sa è un po' prematuro tirare un primo bilancio di questa preparazione, però la squadra sta rispondendo molto bene. Sì, no, non è prematuro, nel senso che sono passati tre settimane e la cosa più importante, la cosa che mi gratifica molto e mi manda a casa sempre soddisfatto è che i ragazzi stanno cercando di dare il massimo sapendo che gli aspetta un torneo difficilissimo. Quindi vedere in loro questa grande motivazione, questo grosso spirito di impegno, mi dà grosse soddisfazioni. Ecco, come si può praticamente sopperire alle assenze dell'esordio contro tra l'altro i campioni d'Italia? Ma lo sapevamo, sapevamo che avevamo delle assenze illustre all'esordio, ci è capitato da calendario proprio la squadra campione d'Italia, quindi rende affascinante questo primo turno perché chiaramente viene da noi per la prima volta il pallo a bianchini o la squadra scudettata. Al tempo stesso ci sarebbe piaciuto giocare al completo, questo non si può fare, noi con tutti gli elementi che avremo a disposizione siamo pronti a dare battaglia. Allora, Luziano Avellino, ci apprestiamo a vivere questa nuova avventura, questa avventura storica. Per quest'anno l'inizio sarà veramente da brividi, la luparenza è proprio alla prima giornata di campionato e tu sarai il capitano come già annunciato in conferenza. Sì, speriamo che sia una partita bella da vedere perché mi spero che ci sia tanta gente e poi è una squadra molto importante, la più titolata in Italia e noi stiamo cercando di dare il massimo per arrivare a quel giorno pronti per la gara. Ci saranno delle mancanze, dei giocatori che mancano, però quelli che ci saranno lasciaranno tutto per aspettare di arrivare a un buon risultato e iniziare bene questa avventura. Ecco, Avellino, come sta rispondendo a questo punto la città? Ormai non possiamo più nasconderlo, conoscono molto più te che piuttosto un nativo di questa città, di questa provincia. Cosa senti? Le voci si rincorrono ormai da tempo? Forse non si attende altro che il fischio d'inizio. Sì, il calcio a 5 in questi ultimi anni è cresciuto tanto, la città è seguito tanto da 5 anni che è cresciuto tanto, la gente è sempre interessata per sapere quando si inizia, per sapere come ci stiamo allenando. e per noi è molto importante perché trovare ogni giorno degli stimoli così è importante per lasciare tutto in ogni allenamento e pure vedere ogni partita gli spalti sempre pieni è molto importante per noi perché ci fa rendere conto che loro capiscono il nostro sforzo e tutto quello che poi facciamo, senza interessare i risultati che poi quello dipendono da tante situazioni, però sempre siamo stati accompagnati e per noi è molto importante. Allora, sono 10 anni, ormai sono tanti anni, tante maglie indossate, il colore è sempre stato lo stesso, colori sociali nero-azzurri. Andrea Natalizia avrebbe proprio voglia di chiedersi come mai non indossa anche quella fascia da capitano? Vabbè perché poi con l'alzarsi del livello è giusto darla anche a giocatori che stanno più tempo in campo e che possono farsi sentire meglio dall'arbitro. Nel caso mio poi la porta Lucas Maina che è anche un mio grandissimo amico fuori dal campo e è anche lui ormai questa che inizia, la sesta stagione che inizia con questi colori, quindi penso che la meriti ampiamente. Ecco, Andrea, dicevamo, lo rimarchiamo ancora una volta, 10 anni si fanno sentire, hai sempre avuto comunque quello spirito di unire il gruppo, sei sempre stata una cononna molto importante, può essere questo un viatico per dei giocatori delle nuove leve che si affacciano a questo sport? Magari, io mi auguro che qualcuno dei nuovi ragazzi che si stanno affacciando ora in prima squadra possano ricalcare quelle che abbiamo fatto noi ragazzi di Latina e tra cui mi ricordo Corbucci, Martufi, Gaito, I.T.Past, è una gente che ha dato l'anima per questa maglia e che se oggi questa società si trova in questa categoria un po' di questo merito anche loro diciamo e quindi mi auguro che qualcuno riesca a prendere questa passione che avevamo noi. Ecco, qualche tempo fa, precisamente in estate, ci hai svelato qualcosa di veramente molto importante, arrivando in A tu hai praticamente giocato in tutte le categorie, forse manca qualche cosa che però non avresti neanche voglia di voler giocare lì. Sì, non ho mai giocato in C1 e vabbè adesso sinceramente scendere dalla Serie A alla C1 sarebbe anche un po', non dico bruttino però insomma... Magari verso la fine della carriera? Eh, magari tra qualche annetto ci penserò, però sì, mi manca solo la C1 e poi è un gol in Serie A. Se segno anche in Serie A poi segno anche in tutte le categorie, quindi vediamo un po' se riusciremo a fare questa cosa. Allora, Vinicius Bagaro, una grande chicca, una grande perla, una grande ciliegia su questa torta del Latina, naturalmente lui non ha bisogno di presentazioni per il panorama del calcio a 5 nazionale, però per Latina sicuramente ha un po' bisogno di presentazione. Innanzitutto ringrazio per i complimenti e per le parole, ma diciamo che forse sono un po' più bravo dentro dal campo rispetto a fuori a parlare, però non credo che né io né la squadra abbia bisogno di una presentazione, anzi invito a tutti quanti a venire a partire dal 26, che è la prima partita contro la Luparense, a vederci, a conoscerci meglio, a conoscere anche il campionato di Serie A, che penso che sarà bello per tutti, indipendentemente dai risultati, è come se Latina Calcio arrivi in Serie A domani, anche se non vincerà il campionato, ma sarà comunque una bellezza poter vedere anche i migliori giocatori della categoria di questo campionato e uno dei migliori al mondo, perché veramente la nazionale italiana ha vinto l'ultimo europeo, quindi verranno qua i giocatori che hanno vinto l'ultimo europeo, i migliori di Europa in questo momento. Quindi invito a tutti quanti dal 26 di settembre adesso a venirci a sostenere e a spingere e a darci una mano, che avremo bisogno. Ecco, Baccaro, tu sarai un po' trainante per questa squadra, per tanti giovani, hai solcato diversi palazzetti in giro per l'Italia, dal tuo arrivo ormai sono diversi anni che ti trovi qui nel nostro paese, quanto è cambiato questo sport in Italia? Purtroppo adesso devo dire una cosa non tanto bella, che purtroppo negli ultimi 15 anni, che è quelli che sono usciti dal Brasile, è cambiato tanto, nel bene e nel male purtroppo. Negli ultimi anni forse c'è stato un cambiamento, nei primi anni dove nel 2003 abbiamo vinto l'Europeo a Caserta con la nazionale italiana, poi il mondiale nel 2004 in una finale e da lì forse era stato il momento di cambiare, di voltare quella pagina e far diventare questo sport, uno sport veramente professionista. Purtroppo non è stato così, adesso ne paghiamo le conseguenze di questa mancanza, di questa anche una sorta di conseguenza di questa crisi economica che purtroppo ha affettato al mondo e a questo paese soprattutto, però penso che purtroppo ne paghiamo altre conseguenze, non solo la diminuzione dei soldi ma anche la mancanza di serietà di tante persone. Purtroppo tanti giocatori sono professionisti, cercano di esserlo ma tante volte la struttura non te lo permette, gente che lo fa come secondo lavoro e non come noi che viviamo, perlomeno io ho sempre vissuto del calcio a 5. È cambiato tanto, ripeto, è cresciuto tanto, però purtroppo adesso stiamo facendo passi indietro. L'anno scorso un campionato di Serie A a 10 squadre, quest'anno a 11, cosa che non si è mai visto, mai esistito, anzi forse prima erano tanti di quelli che rimanevano fuori e che volevano essere in Serie A. Adesso bisogna chiedere per favore a qualcuno di complementare questo campionato, quindi penso che questo sia un segnale che quelli che comandano e che quelli che hanno il potere di poter decidere le cose facciano un minimo pensiero perché è uno sport talmente bello, forse, non voglio sbagliarmi, però forse è lo sport più praticato al mondo, perché c'è stato un sondaggio anni fa ed era lo sport più praticato al mondo, quindi è un peccato che venga così distrutto o non riconosciuto il giusto valore, perché penso che il calcio a 5 potrebbe essere anche una formazione per alcuni giocatori che finirebbero nel calcio, non al contrario, non quelli che non hanno sbocco nel calcio e finiscono nel calcio a 5, questo è un peccato, perché la tecnica che viene sviluppata, allenata nel calcio a 5, penso che i vari Ronaldo, Ronaldinho e tutti quelli brasiliani sono usciti dal calcio a 5, io ho giocato contro Ronaldo, quindi è un peccato, penso che ci voglia un po' più di, forse di voglia e di interessi di tanti altri per poter, ripeto, non solo l'economico, a volte non serve solo i soldi, servono anche le idee e la serietà soprattutto, che è quella che penso che il Presidente della Starsa stia raccogliendo quello che ha seminato negli ultimi anni, non facendo passi più larghi, più lunghi della propria gamba, però è arrivato in Serie A per i propri mezzi, senza stravolgere nulla, però penso per questa serietà, io sono arrivato qua per questa serietà, perché poi purtroppo le voci corrono, volano, molto più veloci dei fatti e quindi è importante questo, la serietà è una cosa importante. Ecco, pronti partenza via, tra meno di 15 giorni si va in campo, però sembra che Vinicius dovremmo attendere ancora per vederlo all'opera. Sì, purtroppo l'anno scorso, forse che io mi ricordi, è in Italia dopo 15 anni la prima volta che mi prendo un secondo giallo, ossi un cartellino rosso e purtroppo ne pagherò la conseguenza di non poter aiutare la squadra in questa prima partita importantissima in casa contro i campioni d'Italia. Però c'è anche il regalo, tante volte nella vita ci tolgono qualcosa e ci regalano l'altra. Subentro dopo con la Lazio nella seconda partita di campionato, quindi c'è anche un sapore diverso, esatto, un sapore in più. Sicuramente sarà il primo tifoso al Palabianchini. Esatto, esatto. Bene.